salve amiche ed amici qui il vostro santen chan pratica molte trasmissioni sono terminate della rai e quelle che ci vorrebbero fare capire come va la realtà dalla ro e le poche altre che sono rimasti perché la estate ne sento la mancanza più che altro per crozza tanto con quello che ha lasciato registrato in internet si può andare avanti anni e poi forse erano le uniche novità che si sentivano originali della politica italiana adesso bisogna inventarsi le debattute tanto poi i politici continuano a cazzeggiare per i fatti loro bene e vi racconto che continua a leggere come sempre e che pronto farò un altro video però per il momento niente mi tengo in contatto con voi per dirvi che che sto preparando del materiale e che presto commenterò certo devo arrivare a magari mettere per scritto molte cose per produrre dei discorsi molto più lunghi qui fa freddo sono le 19 30 circa faranno sette gradi ed è già buio molto buio beh adesso dicono che il relito della costa con con della costa concordia il giallo stanno rimorchiando a genova e dove il nostro amico pietro trevi san che incidente che tragedia pensa a morire per fare una vacanza una crociera al secondo giorno di navigazione che schifo e niente poi non si è sentito nulla di particolare di straordinario nel telegiornale oggi sempre la solita tirtella una un'altra volta dei politici che si devono mettere d'accordo per fregarvi meglio a tutti voi che neanche gli avete letti vabbè poiché altro dire niente basta così sono stanco e vi volevo mandare dei saluti per quello mi registro oggi no non me la sentivo di registrare nulla lo farò domani probabilmente o dopo domani non so dipende come mi gira adesso sono stanco passo e chiudo e quindi più che altro voglio ringraziare di seguirmi che siete in tanti passate parola riguardo il nostro canale santa e chan perché più lavoro molte cose ancora da dire e vorrei che il mio pubblico aumentasse quindi vi ringrazio di avermi seguito fin qua magari di continuare a farlo e io continuerò da domani a registrare dei buoni video questo è stato un video un video saluto vi ringrazio ancora una volta di seguirmi e di avere pazienza e di supportarmi forse anche di sopportarmi adesso sono stanco volevo registrare ma non c'è ispirazione allora grazie di cuore e arrivederci dal vostro santa e chan e spero che tutte e tutti voi vi troviate bene a presto ciao